Una nuova area pedonale lungo il meraviglioso lungomare Pepi di Santa Maria di Castellabate si tratta di proporre la sperimentazione del divieto di accesso alle auto in vista nel periodo maggiormente turistico nelle domeniche di aprile e maggio 2020 dalle 8 alle 20 a partire dal 5 aprile. Il tratto interessato al provvedimento sarà quello compreso tra via Margherita e via Pepi, comprensivo del piazzale Punta dell'Inferno, e prevederà la chiusura di via senatore emanente per i veicoli diretti verso il lungomare, oltre al divieto di sosta e di fermata in tutta l'area. Stiamo puntando a trovare insieme al nostro comando di polizia municipale la soluzione più adatta per migliorare l'esperienza dei turisti che scelgono sempre più numerosi di trascorrere i weekend nel nostro comune, commenta il sindaco Costabile Spinelli. L'obiettivo della sperimentazione è continuare a creare le condizioni di fruizione più adatte e sicure per i pedoni, soprattutto famiglie con bambini piccoli che affolano quel suggestivo tratto del lungomare garantendo loro sicurezza e ordine pubblico.